Per il Regno Unito probabilmente no, osservandone la curva dei contagi ed è quello che probabilmente servirà anche agli altri paesi europei quando la curva si piechierà. Ora la cosa importante è essere certi che la variante circolante sia solo omicron e che quindi abbia praticamente soppiantato la delta e vedere un cospicuo calo dei contagi e dei ricoveri. Allora a quel punto è chiaro che alcune restrizioni possono essere rimosse, probabilmente per chi? Per chi ha le dosi di vaccino fatte. Perché attenzione, la omicron è vero che può essere più leggera ed è vero che forse è più leggera perché siamo sicuramente tutti vaccinati, però chi non è vaccinato rischia probabilmente in forma minore. Questo ovviamente ce lo diranno i numeri e la scienza, ma rischia sempre di andare in ospedale.